Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Davide Lazzoni, che mi chiede di parlare del film del 2014, diretto da Lon Scherfig, regista di An Education danese, che qui praticamente gira questo Posh, un film particolare in un certo senso. La prima volta che lo vedi non mi garbò molto per rivederlo per questa mini recensione, comunque ha delle cose interessanti. E passiamo dall'inizio praticamente, questo Riot Club è un club di Oxford praticamente che esiste dal 1770, fondato da questo libertino che fu ammazzato. e che deve contare sempre 10 membri. I nuovi che vengono fatti entrare per diventare due sono Eilister e Miles, uno che vengono tutti e due da famiglie comunque ricchissime, visto che Miles è un giovane borghese che però si innamora di una ragazza proletaria, mentre Eilister è proprio figlio di una delle famiglie più ricche dell'universo. Quindi sono tutti cinici viziati, fanno tutti il cazzo che li pare e praticamente vanno a rifinire a fare una scena e il film poi si svolge praticamente tutto lì come era in realtà l'opera teatrale che qui è stata sceneggiata dalla stessa autrice Laura Wade. E appunto è un continuo, è un escalation di violenza, crudeltà, per dimostrare la loro superiorità e l'inferiorità di tutti quelli che entrano. Quindi la escort, quindi la ragazza del nostro che viene distrutta, quindi anche addirittura il mobilio, quindi il ristorante, il voler pagare tutto, il pensiero che con i soldi si fa qualunque cosa fino a arrivare quasi a ammazzare praticamente il ristoratore. E per un finale assolutamente per niente è piacione. Certo avrei voluto vedere il film presentato a Toronto che ci aveva dieci minuti di più e che dice era violentissimo e aveva ancora più crudeltà verso questo mondo, un mondo di questo upper class che presente se ne strafotte di tutto quello che c'è sotto perché sa con quel terribile finale, quello è veramente ben fatto, che tanto qualunque cosa succeda questa è gente che sarà sempre salva e aveva sempre la possibilità di fare il cazzo che gli pare. In un mondo è descritto in questa maniera, comunque con una buona regia, una regia pulita, limpida. Sicuramente non è un film eccezionale, però è un film che denuncia un certo tipo di modo e di pensiero edonista e narcisista che distrugge il mondo da sempre e che porta appunto questi a essere prossimi che comanderanno e quindi ogni volta ci troviamo di fronte a una condizione di distruzione e distrazione sociale per la quale appunto i più grandi che dovrebbero andare a Oxford, dovrebbero far parte dei più grandi club in realtà sono delle merdine essenzialmente aiutate da loro forza, non dalla loro cultura né dalla loro abilità ma semplicemente dalla famiglia a cui vengono e cioè da un sistema che li garantisce che loro non saranno mai toccati. Quindi un film un'altra volta che riduce il maschio solitamente veramente come la bestia che è in un certo senso con tutte le scene appunto che vuol fare il sesso con l'escort, è terribile poi quando arriva la fidanzata di lui che fa lo stesso e questo manco la difende perché è una merda pure lui. Un film in un certo senso che nasconde dietro appunto una facciata di un qualcosa di ribelle, di un qualcosa così in realtà un vero attacco a un certo tipo di società che esiste e come l'hanno definito il nostro arancia meccanica, manco per il cazzo si avvicina al film di Kubrick nemmeno come tematiche, in un certo senso ce le ha la gioventù, la violenza ma qui il tutto è più sfacciatamente in un certo senso retorico e questo rende un po' di forza però in un certo senso regala anche determinate scene che sono veramente sensazionali ripeto come quella della escort come quella del proprietario del ristorante, come quella della distruzione come quella di tutta la discussione con la ragazza di lui e i personaggi comunque sono ben interpretati da questi giovani attori quindi tutto sommato un film che io consiglio di dargli un'occhiata perché è una descrizione di un mondo vicino al nostro ormai di dieci anni fa che comunque non è cambiato, i potenti fanno il cazzo che gli pare e c'è sempre un modo insomma per farla franca o assolutamente anche se non la vuoi far franca la continuerai a farla franca perché comunque la tua posizione sociale ti porta in una condizione per la quale nessuno ti attaccherà, mai questo è chiaro e il film lo descrive in maniera lucida nonostante ogni tanto si perda in volazzi un po' inutili in lungaggini abbastanza così che potevano essere evitati ma il film comunque ripete è recitato bene, è messo in scena bene non è veramente eccezionale perché la sceneggiatura ogni tanto è molto teatrale e c'è poco da dire nonostante la regia cerchi insomma di spostarsi da tale livello per essere un film girato praticamente tutto in un ristorante è un film che comunque tiene attaccato e quindi secondo me una visione se la merita, il link è qua sotto, su Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è anche il pulsante del super grazie per donare direttamente su youtube, seguitemi su facebook e su instagram per sapere che cazzo faccio a giro per l'Italia e ripeto questo film è andato a fase alterna, l'ho visto la prima volta un megarbato, la seconda volta megarbato tantissimo, la terza volta insomma per rivederlo questa volta qui ho trovato delle cose molto interessanti ed alcune proprio didascaliche che però insomma raccontano ripeto il mondo di questa upper class veramente in maniera spietata e diretta cosa che io gradisco